Il movimento è comunque una grande novità politica, quindi naturalmente si corregge, si migliora man mano che passa il tempo. Prima di tutto le aspettative, abbiamo ridimensionato le nostre stesse aspettative. Vinciamo noi, non si è più detto. Ma vinceremo, vinciamo poi, è efficace perché è la verità. Abbiamo capito che è una maratona, non è una corsa ai 100 metri. E quando è una maratona i risultati giungono, sono straordinari, ma non sono naturalmente i risultati del 100%, ma sono graduali, però davvero rivoluzionari.